aggiungere ne metta e infatti poiché vuole aggiunga e cosa dovevamo far scaricare a tommy ah tommy tu te sei scaricato uno io e darci divertiamo troppo uno io e darci divertiamo troppo c'è ragazzi comunque mettiamo di finire questa lì questo capitolo tommy comunque ora sto accendendo che sto accendendo la live su asfalt intanto che non decidiamo sto guardando la mia carriera ora te lo dico subito allora ho fatto il primo il secondo il terzo quattro quinto il sesto mi tocca fare il sesto aspetta che ci guarda aspetta che ci guardo che vedo anche io devo guardare il sesto si si devo fare il sesto io te dove sei arrivato tommy te tommy dove sei arrivato io sono arrivato dove c'è scritto il numero D no io ho fatto sei quadrati completi no allora no tu sei ancora indietro ma mi stavo facendo un po' di asfalt nel frattempo che decidevamo cosa fare non so guardati un po' te i giochi tutti potrebbero piacere di più ma a me bene o male si quando tu quando tu 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 forse dopo posso farlo comunque devo rivincere la gara io ti giuro ci ho provato ma già che son partito con un marino nudo già mi sembrava troppo cringe però ho visto invece che molti lo portano come contenuto ma io se io c'ho peccato quasi tutta l'estate che ero in versione a me è rotile fra le sue poi io se voglio riportarlo non posso tirarlo ah io a quel punto opterei su creative devo dirti la verità forse ma infatti però io poi ho detto anche dark magari l'inizio è brutto e poi dopo magari è un gioco bellissimo e tutto ci mancherebbe magari un gioco pure bello però già per come inizia non è che ti fa venire la voglia di giocarci più che altre capito? no vabbè metti qua in mutande si ma già vabbè almeno mettimi una skin base ma non in mutande dai vecchio ma dai buttalo fuori questo pinto buttalo fuori buttalo fuori non so chi si è collegato luterone sicuramente no perchè non è ancora nel server forse perchè è lui che stava guardando la live no ma io non c'è più no ma io non c'è più no allora ragà non ho più paese da te io no non c'è più scontra adesso non per dare la partita ma non basta andare ci sta andando ci sta andando bici gankster vegas non so perchè mai sto in postazioni audio grafica all'alto a o audio e video si va bene quello c dove c'è scritto visuale e espulsione i video si attiva c'è scritto visuale e bravo vedi domi dove sono ah tu sei dopo sei qua no sono non quello ma no è solo dove sei da sono nell'immagine sotto la tua ah lì nella D vabbè allora non è che sia tutto sto avanti non è che sia tutto come sto avanti io pensavo che era avantissimo lui ma dove io pensavo di più poi in effetti tu non stai giocando tanto quindi cioè non stai giocando proprio è infatti recuperare subito grazie ho consigliato 5-6-1 e noi siamo tipo a 7 qualcosa ma questi li fa easy easy quindi tu hai detto che c'è nella D sembra un pochino più più hard detto come va detto che figa cosa ho fatto ma lei Tommy Tommy hai visto il turbo sul palazzo ma 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 vecchio ma Dark ma tu non puoi capire Dark ma ma ti giuro che mi sono fatto Spider-Man altro che quell'altro gioco che va e cammini sui muri vabbè mi sono messo mi sono fatto metà palazzo con la macchina Tommy tu aventi perché un trick così non l'hai mai fatto no tu non hai visto questo c'ho delle clip assurde io ma pubblicali l'hai pubblicati no no eh pubblicali no no non lo faccio mio no no sono talmente belli che hai paura che te li copiano sì avevo preso una rampa normale mi è arrivato l'onda viola proprio il nitro viola mi ha spostato ho fatto metà mappa tutto in volo faccia sarebbe da provare in effetti sì ma era completamente a caso io non volevo neanche sì comunque sinceramente quella cosa dell'espulsione disattivata è già già meglio sì ma ti distrae un po' il fatto che viene di reclusione comunque ci dico che i bot delle macchine sono troppo bastardi stavo facendo una via sto qua mi ha tirato addosso la mia amica ha distrutto la macchina me l'ha spostata vicino a un muro e mi sono schiantato no i più bastardi sono i poliziotti frate mamma mia che liscio pensavo di essere ribaltato no comunque secondo me invece i più bastardi sono quelle gare con la polizia perché ti si appiccicano e non ti si schiotano non ti si schiotano oh ma questi 17 basta che li vai in mezzo beh se 17.000 me le prendo comunque fai il 360 gradi e li uccidi tutti io ma ci sono eh ma se non le fai 360 BMW livello 2 BMW livello 2 si è la tua mi sono guardato questa pubblicità qua perché 17.000 me lo guardo ah ma sei te pensavo fossi e a me non mi arrivano mica le pubblicità nelle live le pubblicità raga sono quelle cose che vengono sponsorizzati tramite cioè youtuber sponsorizzano quelli vengono pagati per avere pubblicità nei video raga io non vengo pagato da nessuno io vengo pagato con il vostro divertimento con le vostre risate con i vostri like eccolo qui hai ricevuto questi premi grazie nuova stella hai abbastanza progetti per migliore la tua auto ah e poi vai sull'estetica bella bella 5 pacchetti di carte gratis aspetta ora prima finisco il corso la cosa devo fare prima che inizi la partita eh vabbè vinco la gara e basta eh no vinco la gara così ormai l'ho già fatto partire in pratica potevi colorare la macchina in modi diversi e devi farti 5 partiti multigiocatori per bloccare delle assessore ma dopo lo faccio lo coloro dell'italia se riesco con un po' azzurro magari non penso che tre colori di più no lo faccio azzurro che è colore italiano allora ma non è azzurro vabbè eh sì guardiamo il calcio l'italia sembra azzurra comunque bene male eh io guardo io non guardo il calcio e non è azzurro eh per te è tricolore il tricolore quella la è anche dell'ungheria lo sapevi però è al contrario è con la bandiera rovesciata ma per lui sì è rosso bianco verde no mi dispiace mi dispiace d'arco sì questa curva un po' infabosa ti giuro che non non me l'aspettavo per niente qua non mi aspettavo di non prendere il super nitro lui è bianco nero fin non ci credo quella della juve non ci credo che culo che culo che culo ma di quanti 10 di culo 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 buono no non è buono io l'ho stato scusato a fare 10 volte eh ma io sono un pro fra io calcolo il millimissimi di secondi sto guardando la live sto guardando la live adesso mio raga vado che devo vedere il video mi dispiace per di culo quindi qua come potevo fare come potevo fare per fare un ma ti saperebbe quel gioco che partiamo ci partiamo no per me va bene per me ma è importante che ci piacciono a tu cioè che piacciono a noi rega buono a quanto capito non può giocare oh ma sono a 108 mila di monete fecchio bella 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 Tommy ci ha abbandonato ragazzi suoli un po' Mi piace 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 Ah ok Ma no come si faceva pure Ma no ma quanto è indegno sto gioco raga Ma come faceva a comprare pure il carburante qua Ah vabbè è pieno Boh non ho capito come ho fatto a diventare pieno Derappa Derappa per 150 metri completa la gara Cioè non devo neanche, posso pure perdere la Ah no Completa la gara sicuramente saranno quelle gare con il tempo Quindi devo stare attento al tempo sicuro Quando c'è scritto completa la gara è così sicuro sempre No però stavolta ci sono gli amici quindi non ho capito Non capisco A presto A presto A presto A presto la gara giusto per estagerare alla fine della gara un doppio 360 ci stava andiamo avanti andiamo avanti fin sul capitolo sono le 10 vediamo con dark se giocare un po' a brollo un po' a cale se ha voglia di giocare un po' a 1 vediamo cosa fare tempo con il nitro 0,4 completa la gara ma questo è easy raga c'è da tommy hat che era difficile però secondo me è easy easy poi se dark non ha intenzione di giocare a niente io continuo con asfalt raga andiamo avanti con un altro capitolo di asfalt 8 no asfalt 9 tempo con il nitro 0,4 secondi completa la gara tempo con il nitro 0,4 secondi ci vuol dire che io devo fare una cosa così ah no ancora di più devo utilizzare il nitro classico però così no non devo prenderlo viola mannaggia a me mannaggia ah sì invece sì ce l'ho fatto mi sa ah ma non era totale cioè con 4 secondi di nitro in totale non consecutivo vabbè ma allora che obiettivo era scusami questo è easy easy raga easy easy raga ma che dice tommy che dice tommy che era difficile dopo a me sembra ancora tutto facile beh 20.000 raga me lo prendo scusatemi ma 20.000 rispetto a 6.000 non le rifiuto eventualmente facciamo così ah raga sto gioco comunque non sono sponsor di sto gioco ma io sto gioco ce l'ho se volete passarvi il tempo che siete da soli raga è un buon passatempo perché è un livello tipo ci mettete mezz'ora per fare un livello quindi è da passarsi il tempo sto gioco ma di brutto non è un gioco proprio diciamo top del top però è un gioco discreto con cui passarsi il tempo se siete da soli se siete da soli ve lo consiglio ah ma qua abbiamo finito con il livello con con l'otto mi stai con tutti i soldi che abbiamo andiamo a fare le gare easy easy raga facciamo le gare easy easy lo conosci anche te dar quel gioco no da giocare da solo ci sta cioè ti ti passi veramente tanto tempo perché una volta che inizi fare un capitolo fai conto che devi fare capitolo per capitolo e ogni capitolo veramente ti dura una mezz'ora come minimo e non sei neanche sicuro di riuscire a farlo quel capitolo quindi magari ti passi mezz'ora di gioco poi dopo perdi pure il capitolo quindi tocca ricominciare da capo se sbaglio questo è il percorso migliore infatti ha preso anche lui io faccio però un 360 che lui non fa attenzione lo vado a chiudere attenzione un altro nitro un altro nitro vi prego fai prendere bene questo salto perché questo salto ci potrebbe far vincere la gara questi stanno ancora qua però dai levati carcassa oh vabbè ma carcassa ma ti levi per favore e mannaccia questo punto adesso su questa parte qua anche se avrei preferito l'altra parte perché era molto meglio l'altra parte ti prego ti prego mamma mia eravamo qua era dietro di noi proprio il tipo vinci la gara perfetto finito completato andato avanti oh dark dimmi se vuoi giocare a qualcosa che finché c'è qualcuno io gioco con qualcuno poi se sono da solo mi metto a giocare ad asfalt infatti asfalt di solito lo faccio la mattina appunto per quello perché la mattina non c'è quasi nessuno quindi me la gioco da solo poi se non vuoi giocare è un altro discorso allora Tommy ha detto che questo qua dovrebbe essere più difficile ma a me ma io ne dubito io ne dubito ah questo mi sa che ci aveva già maxato si quindi una cosa che possiamo fare boh io li uso così a sfalso raga visto che erano difficili e io le metto eh però questo no questo no questo no questo no questo no questo no e questo neanche mi serve tanto velocità massima e accelerazione mi servono bom dark dimmi 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 cosa vuoi fare vinci la gara vediamo quanto è difficile stiamo a scoprire se Tommy ci ha se Tommy se vabbè ma che idea quella macchina davanti io guai io e io già quella macchina l'avevo superato guai io aspetta 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 che io arrivo 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 eh non ti preoccupare che arrivo arrivo ois faccia eh ma di velocità massima li raggiungo io se vabbè giusto l'accelerazione c'è la più veloce perchè c'è la macchina comunque migliore cosa ho recuperato oh ma ci avete scasciato voi due ma basta non sto più capendo raga come sto giocando qua bisogna fare un 360 assurdo mi sa non sto più capendo 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 lag assurdo piccolo piccolo però per fortuna la piccolo piccolo ma io sbaglio sbagliato strada sbagliato strada sbagliato strada sbagliato strada sbagliato strada sbagliato strada assima ma cosa voglio no adesso devo andare mi conveniva a destra qua guarda stiamo sulla sinistra e di nuovo a destra la gara è finita così ma non mi sembra tutto sto gran che bella bella boh io ora sono su asphalt che stavo aspettando qualcuno se volesse giocare che dark c'è già ma non ho capito se dark vuole giocare o no ci sta ci sta noi siamo qua arrivo raga faccio un po' di trip di sal di coltino oh ma dark è online dark è su discord guarda god bella Grazie a tutti. Buongiorno, io non capisco se Dark c'è o non c'è, non capisco proprio. Livello 7 ragazzi, buono così. Buongiorno, grazie. Grazie Marco. Proviamo, proviamo. Dai, Tommy diceva che era difficile. A me non mi... On the Nitro 2 vinci la gara. È sempre easy, easy mi sembra, no? No, poi c'è la ragione lui, che ne so io. No, arriva una gara che non riesco a fare, chissà. Per adesso non mi sembra così, però non si sa mai in sto gioco ragazzi. Le gare possono cambiare da un momento all'altro. Come ha schivato quello non lo so. Crebus come l'ha schivato non lo so. Ma a me sembrano talmente semplici ste gare. Non capisco Dark che fine abbia fatto. Fatemi andare un attimo su Discord. Ah no, Dark c'è, c'è, ok, ok. Quindi mi sente, quindi mi sente. Oh Dark, dimmi se vuoi giocare. Ma per adesso non ha risposto, quindi preferisce forse guardare la live. Mi sembrano easy. L'ho consigliato 8600, noi ne abbiamo 930, cioè... Abbiamo 60 gradi in più. No, 930 abbiamo. Abbiamo l'ora 90 gradi in più. Cioè no, 70, scusami, non 60. 70 gradi in più. Ah, questo è quello lì, quello infame questo. Questa è una mappa infame proprio. Infame proprio. Il primo ha sbagliato la curva, attenzione raga. Anche ho sbagliato la curva però, intanto recupero. Un 360 qua ci sta. Nooo, questo ha sbagliato. Con questo ci rischiamo proprio la partita. Se non mi do una mostra come si deve in questo salto qua, ci rischiamo la partita, sì. Salto preso da Dio. Ok, supernitro preso da Dio. Ma qual era l'obiettivo? Ah, vinci la gara. Ah, easy easy allora. Oh no, è qua, è finita la gara, è finita la gara, è finita la gara, è finita la gara. La Camaro, buono, 7000 monetine, buono, le accumuliamo insieme agli altri. Boh, io continuo con questo. Con questa macchina qua. Tanto ci va ancora bene per questa gara. Consigliate 8.94, 9.34, ci siamo ancora. Poi consigliato, non obbligato, il ritorno del re. Eh, adesso vedete che il re ritorna. Vedrete, vedrete il ritorno del re, come vince. Sì. 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 Vabbè Vabbè Sento Che senti sento? Eh? Domani? Domani? Ok, ok Dimitarla Dove ne metto? Dimitarla Eh Io nei Negli cosi, nei nomi Dei video e nei nomi in sé Non ho molte fantasie Infatti mi devo allenare Ok, questa gara gi' mi sembra un pochettino più carina Questa gara gi' mi sembra un pochettino più carina Ho avuto un segno di braccio Vabbè hmhm no si king master no io con king master mi trovo veramente bene mi sa che questa serie qua stasera non riesco a finirlo di rapata 600 esegui 360 due volte e vinci la gara ok ok e sgheter studio che mi sembra l'unica app buona cioè rispetto alle altre app questa qua è ottima devo dirti la verità per quello che ho trovato in giro questa è la migliore che ho trovato fino adesso poi magari ci sono delle app che per esempio king master come applicazione di di coso non non lo trovavo cercando l'applicazione di registrazione quindi magari c'è un'altra applicazione che non riesco a trovare che comunque sono ancora meglio però per adesso per me questo qua mi sembra la migliore è un'altra applicazione che non riesco a trovare nooo che errore che ho fatto che orrore che ho fatto eh questa la perdo questa la perdo mi sa devo concentrare veramente tanto qua ma cosa perdo io ma cosa perdo io anche se siamo di grado basso qua la vinciamo però senza quell'errore l'avremo stracciato senza quell'errore l'avrei stracciato nooo ma ma qua si fa un po' più intenso qua si fa molto più intenso qua mi sembra molto più intenso come gara eh si qua proprio mi devo impegnare tantissimo eh però qua mi devo impegnare veramente tanto mamma mia che fortuna che ho avuto ragazzi a fare quel trick lì quel trick lì mi potrebbe salvare la vita se la gioco bene se me la gioco bene eh vabbè eh vabbè eh vabbè eh vabbè eh vabbè eh vabbè l'ho appena detto se me la gioco bene comunque se riesco a vincere questa gara qua riesco a vincerla tutto no scherzo no scherzo da questo gara qua comunque già un pochettino piuttosto per boh ma per un po' se non facevo quella quella nabbata lì l'avrei potuto anche fare l'avrei potuto anche fare secondo me eh ce la si fa secondo me ce la si fa eh secondo me ce la si fa eh non è un pagamento o uno? uno è un pagamento no no cioè quello io non abbiamo ancora un pagamento che è quello migliore è uno con proprio il TM speriamo di non fare lo stesso errore di prima lo stesso errore di prima non l'abbiamo fatto e vabbè sta gara è proprio basta 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 sta gara basta sta gara basta e avanza stavolta qua il nanabatto non la faccio e infatti mamma mia che liscio come sono andato liscio sono andato più liscio di così non potevo andare comunque dark io non so perché Tommy aveva detto che è molto difficile però a me sembra ancora easy fate la vincente non so bella vincente mi ha detto che questo capitolo qua doveva essere più difficile per adesso mi sembra proprio easy 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 arrivo arrivo non parlo più 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 ok non parlo più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, vabbè, è bella, 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 già lo posso definire di aver perso. Poi giustamente dipende dal pilota, non dal livello. Però la vedo dura. Attenzione però, attenzione invece, attenzione invece, questa è la curva più bastarda. Se riesco a fare questa gara bene con questo turbo, potrei avere ancora una piccola chance. Ho la recuperata, forse. Ho fatto quella colpa a male. Però ti direi, forse, forse, forse è fattibile pure. Anche se siamo molto fuori dai gradi è fattibile. In base a come te la giochi. Se non avrei fatto quel, magari, quel sbaglio iniziale, forse, forse ci stava anche. Intanto mi partono dei lag, comunque assurdi. Oh, ma ti levi, ti levi, perché mi disgasta a me? Come fare quello con quella macchina di stupo? Essere primo? No, non quello primo. Ce l'era uno con una macchina di stupo. Forse, forse, forse l'avrei potuto vincere, però, sai? Se me la gioco bene, 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 bene. Se me la gioco bene, bene, bene. Lo potrei provare anche. Cioè, però, fai cose qua che l'ho consigliato 9,73. Io sono a 9,34. Quindi sono 4. No, ma vinto se provi a portare Fortnite. Non ho il telefono adatto. Se no, l'avrei portato. Sì, cosa c'è? Tu, ui, ti vedi. Eh, non è compatibile. Come? Sì che può? No, l'ho provato a scaricare, ma mi dice proprio che non è compatibile. Ah, buono. Ah. Se no, l'avrei già provato a portare senza alcun dubbio. E quando l'hai provato a scaricare? Eh, me lo fa scaricare tutto, poi quando arriva il momento di scaricare gli ultimi megabyte di risorse, non mi parte il dubbio. Ah, buono. Non credo che sia un problema di spazio, perché proprio non mi parte il dubbio. C'è uno che c'era male con Samsung A20 e l'ha scaricato. Ah, forse il suo era compatibile, non lo so. Eh, sì. E se mi scarico proprio l'applicazione epigame, me lo scarico da lì, mi dice che non è compatibile proprio. Cioè non mi fa proprio scaricare il gioco. Ho trovato il metodo per... Ho provato il metodo per scaricare il gioco e il gioco me lo scarico. Posso accedere, posso fare tutto, poi dopo appena devo scaricare gli ultimi megabyte di risorse, non mi parte il dubbio. Non so per quale motivo non mi parte il dubbio. Non mi parte il dubbio proprio... Deve fare il risultato del software. Eh, io ce l'ho già aggiornato del software. E l'altro video. Cosa l'altro? L'applicazione lì ce l'ho provato a scaricare. Eh, bravo, con quello, con quello, con quell'applicazione lì proprio. Con quell'applicazione lì me lo fa scaricare... Tramite quello me lo fa scaricare tutto, però dopo quando accedo mi fa accedere nell'account, nell'account e tutto. Poi arriva il momento in cui devo scaricare l'ultima parte e non mi parte il dubbio. Devo vedere perché... Però devo vedere perché... Perché una volta già che ho scaricato l'applicazione e ho fatto l'accesso e mi fa partire... Cioè, perché non mi fa partire il dubbio? Non ho abbastanza spazio, mi sembra strano. Almeno che non pesi più di 500 giga. Madò, qua siamo a grado mille, qua è impossibile. Qua la vedo veramente, veramente dura. Cioè, qua proprio mi devo consentire... Cosa ti dico? Mmh. Però devo scaricare... Lo puoi scaricare tu? Il slot, il slot. Oh, io ho detto, se vogliamo... Su YouTube. Passo a top. Questi qua sono più cattivi. Attenzione, sono secondo comunque. Attenzione, sono secondo. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione... Ma c'è... Cosa c'è? Noi che parlava... Il casa sbagliata che mi sa... Che cosa c'è? Non ho capito? No, no, non è questo, no, non è questo Io dico di giocare con gli amici Su Asphalt 9 c'è, su Asphalt 8 non lo so Ma dovrebbe esserci se non sbaglio Perché io mi ricordo che a molti giocatori c'era Sì, a molti giocatori c'era Però per giocare con gli amici Eh, secondo me c'è un modo Ma sì, il secondo me c'è Eh ma tutti questi sono Vintage che vanno con telefoni vicini Problema è giocatori c'è quando l'am finito lontano Bé, ho pinto io provo a scaricare Poi vedo cosa mi pare scopato Sì, non c'è un paquete gratis Sì, non c'è un paquete, ma è sicuro troppo a dir poco vecchi, più di 4 gb di memoria più di 4 gb di memoria aumenti tra un pacchetto e un altro ma se scarichiamo solo i multiplayer ma io per scaricare me lo posso scaricare tutto perché tanto io ci riesco io non ho problemi di spazio se te vuoi che avete problemi di spazio si si non scarico tutto il gioco scarico il multiplayer e basta perché come gioco di macchine quello preferisco quello io entro nel live con l'acconto dimmi te la pinta intera ma perché non riesco a trovare questi pacchetti oh guarda binto non sto scherzando dimmi te la pinta intera no vabbè cosa ho detto una cosa team italia xp in terrazza team italia xp in terrazza perché in terrazza perché sto sempre in terrazza a registrare non so se riesco ancora a giocare non so se riesco ancora a giocare dai e abbiamo scaricato ma come come lo da ooooh oh 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 fermi 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 perché lì mi dà la macchina oh fermi 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 eh perché scena fermi 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 la mia carriera scena Alla fine ti sei guardato un po' di guapissi? Gheri sei un po' si Hai ricominciato proprio dal canobbo? Eh si Che buono Si si dall'inizio inizio Buono Anche io resto in terrazzo Buono Anche io resto in terrazzo ragazzi Secondo me le farò più scherzi di te Buono Ah sicuro Mi stai dato di scaricare le oreggi Ce l'ho già scaricato Buono Ah quando tu li Puoi installare tutti i giochi di preghi Bene o male si Puoi fare un po' da 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 un po' Si Ma mi sa che eravamo pure disinstallato Stamattina se non sbaglio Guarda loro Guarda loro installo Come se sta polizia rompe raga Se sta polizia rompe raga Vi rallento tantissimo E' che ho visto che la polizia Rallenta sempre Oh pure nei giochi vi rallenta Oh ma hai visto come mi hanno bloccato sti maledetti Per quanto non l'ho finito Ah certo che mi hanno bloccato un po' Mi hanno bloccato tantissimo fra Ah Mi hanno bloccato tantissimo fra Ma sul rally Reci Che macchina ti hai ripreso Non mi ricordo Fulci Eh se mi fanno fulci io Fulci o ciccio Abbiamo un minuto per fare sta gara Allora Devo riuscire a sfruttare Devo riuscire a sfruttare il più possibile I 360 E i turbo al massimo Perché sennò qua non c'è verso di farlo Sì Sì No Non mi ha fatto prendere il salto sto maledetto schifoso Dai tra pochissimo Sei 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 Cinque Quattro Tre Ma No no ma io alla fine devo saltare Ci ho fatto caso ora Ecco perché non l'ho vinto forse prima No ma è fattibilissimo È fattibilissimo È fattibilissimo Soltanto che alla fine devo beccare uno delle due rampe che mi chiudono No Mi racconti Faccio un logo della terrazza Con X in la terrazza Va bene Un logo della terrazza Faccio un logo della terrazza Ma no, l'ora è fattibilissima sta gara raga Sono io che sono un hub che non avevo capito all'inizio come dovevo fa' Ma io lo faccio seriamente raga, avevo già intenzione di farlo Eh ma mica è sicuro che si fa Ma vogliate ad arrivare a 1000 iscritti, sai quante idee ci arrivano fra, siamo a 150 iscritti Ma vogliate ad arrivare a 1000 iscritti 160 160 ora? 159, 160 No vabbè ma cosa sono, ma dove stiamo tirando fuori gli iscritti noi Non ho mica capito L'altro giorno Vabbè Perché stavo, non so neanche Però vi ho sentito per un po' No perché io mi son bloccato fra, mi son fatto un frontale vecchio che, vabbè Ti sto dicendo, ti sto dicendo, ah ma gli iscritti io non so come li stiamo facendo perché Cioè alla fine tutti questi iscritti, comunque li stiamo facendo negli ultimi due, negli ultimi due settimane Nelle ultime due settimane abbiamo fatto sia 900 iscritti Sia 900 iscritti abbiamo fatto Cioè Austin Abbey si stanno creando 50 In quanto Bello No sono uscito Ma un'altra cosa che io non ho capito Ma su YouTube, quelli che contano di più Sono gli iscritti, sono i like o sono le visual? Su YouTube Le cose più importanti sono gli iscritti, le visualizzazioni oppure i like Che non ho mai capito Gli iscritti e le visualizzazioni Ma è quello più importante e principale, sono gli iscritti Madosca oh Madosca oh Madosca 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 Appo io Questa polizia vi sta Le calcane Madosca Eh mi sa che mi tocca scappare in terrazzo Secondo me hashtag terrazzo rimarrà per tutto il tempo sul canale Hashtag in terrazzo Eh raga però se vedete la terrazza in qui Ma Ma vabbè 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 Allora tu ti levi Perché adesso devo vincere questa gara Soltanto Perché ho fatto un trick così Tanto per il trick che sono riuscito a fare Devo fare un altro Oh Mi stanno a chiudere Mi sta a chiudere Mi sta a chiudere Mi sta a chiudere Oh ma Ti levi Ma hai già scasciato tre quarti di quelli Non ce la potrò mai fare raga Queste abbiamo spero ma cosa Ma cosa stai dicendo Ti levi da quei tre quarti di quei cosini li Questa non la posso vincere neanche a morto raga L'unica gara che non riesco a vincere sono quelli con la polizia Però questo è fattibile Sono sicuro che è fattibile Sono sicurissimo Sono sicurissimo che Ovvio ma adesso Domani mattina l'ho detto Se riesco che me lo ricordo Mi Mi copio Mi copio il link Ora lo metto in scarica Comunque stavo dicendo L'ho detto prima Se me lo ricordo Domani mattina mi copio tutti i link di tutti E ogni fine live Li Li metto i link in descrizione Di tutti quelli lì che hanno il canale Con Team Italia Ora piccato che sono stra concentrato a fare sta gara raga E' proprio adesso è una questione tra me e Asphalt Che devo fare sta gara Si perché vecchio io sono un capricorno Quindi quando mi metto una cosa in testa Quella deve essere Io se mi metto in testa che questa gara la devo vincere Perché la posso vincere E perché la devo vincere E la posso vincere Ma hai mai pensato di mettere in testa pure il cervello No quello no Quello mi manca Sì io non l'ho capito No vabbè Sette secondi Sette secondi Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare Cinque Quattro E che ti ho detto Una cosa che la metto in testa Io lo faccio Io lo faccio Signore e signori E vai così E con sette secondi Ma dò se mi sembra che aveva il telefono in quel momento Mamaccia Che eliminavo il family friend Perché questa forse è la prima live che è family friend Dimmi Quello di prima era family friend Quello di prima sicuramente Quello di prima era che comunque Io la live di prima Veramente mi sentevo un vero youtuber O se volete qualche partita quad Lo vengo a fare senza problemi raga Se ne avete voglia Sto bene Marco ancora Ma io sta macchina qua che Scusami Questa è la macchina più veloce Però Non ho cose Potenzia a livello Ma come potenzia a livello 6 Ma che dici Potenzia la B Ovvio Sento che più in piano Si sta Sta facendo Care Il potenziamento qua L'ho potenziato al massimo Ma l'onorabilità Non mi serve a niente A me raga Però buono L'ho portato a mille questo Giochiamo con questo Allora Vincere la gara Acrobazie 2 Boh Tommy mi ha detto Che era difficile Ma Se va Se No E che se è giocato bene Con i turbi giusti E tutto giusto Io sto andando avanti Comunque A parte quello della polizia Che mi ha fatto sclerare Tutti gli altri Bene o male Ho visto che Non ho avuto nessun tipo di problema Io Ma anche su questo Mi sembra E Non voglio andare un po' su Non voglio andare su Calle Insieme a Cosa Ah ok Adesso dopo questa partita qua Me lo metto in Dovlo ad intanto Questa l'ho persa Questa l'ho persa Questa l'ho persa Presa Mentre Non c'è verso Che io lo recuperi Questa partita qua Infatti Questa era tosta Tu hai il mio garage Ok Ragazzi Un piccola pausa No no Che non vi faccio Mica vedere La posizione mia Ma siete matti No Di malattiazione Sto amato Anni su Coda Sì 10 minuti Vabbè ragazzi Allora Provo a farlo l'ultima volta Questa cara qua Poi sta live Lo stacchiamo così E vado un po' a giocare A COD Tranquillamente Però qua Viste che ho fatto Le acrobazie 2 Meno Finisco La torre del Cairo Ecco Pinto Invita amici Nessun amico Ho trovato Quindi c'è Ma tramite Facebook ID Google Play Credo Facebook Pins Ho il 10% Di batteria Anche perfetto Vediamo amici Quindi alla fine Comunque i likes Sono soltanto Per youtuber Per capire Che il contenuto È bello Però una volta Che fanno i visual Non capiscono Che il contenuto È bello Scusami C'è una volta Che un contenuto Fatto anche Ti portano Poi in tendenza Ah vabbè In tendenza Sicuro Vabbè Quello sicuro Comunque mio fratello E mio padre Ragazzi Per chi lo volesse sapere C'è Un grandissimo film Sul canale 5 Che è Jack Sparrow Maddose Mi ha fatto Mi ha fatto Sempre ridere Quello È sul canale 5 Lo stanno facendo ora Mi ha fatto Sempre ridere Quel person Quel personaggio Eh non me lo ricordo Non l'ho visto bene Non l'ho visto bene Però c'è Jack Sparrow Su canale 5 Che secondo me È uno dei film Pirati dei Caraibi Sì vecchio ti giuro Io la chiamo Jack Sparrow Perché per me Lui Cioè lui Dovrebbe essere chiamato Jack Sparrow Il film in sé Comunque si è Pirati dei Caraibi Non mi ricordo Qual è però Non l'ho visto bene Ma comunque Tutti sono belli Secondo me Facciamo L'ultima gara Così abbiamo finito Io ho finito Tutto il capitolo Che Tommy diceva Che era difficile L'ultima gara Mi manca Il film Entro sul Real Raging Real Raging Me lo sto scaricando Real Raging Ah mi sa che ora Me lo sto scaricato Già Che buona volta Mi hai conto Che Non clic Non ti fanno Non scaricare Sì ragazzi Ho scaricato Più Ho scaricato Più giochi Che Che fatti iscritti Ormai E di iscritti In una settimana Ne abbiamo fatti 100 Quindi fate un po' Voi i calcoli Ho scaricato Più di 100 giochi In due settimane Buono Eh Più giochi Che iscritti Buono Eh ma Tra un po' Saranno più iscritti Che i giochi Ne sono più che sicuro Ragazzi Se continuiamo così E quant'è stiamo Ah ora 100 60 Ora ci Eh ma Io ci ho fatto caso Che di sera Un pochino Più difficile Con gli iscritti Invece Durante il giorno Gli iscritti arrivano E anche io voglio Le 1000 Vecchio Cioè Non sei solo te Che li vuoi Le 1000 iscritti Ah allora credi male Perché questo qua Te lo posso assicurare Che credi Vai proprio male Ma ci arriviamo Secondo me Tempo Qualche mesetto Ci arriviamo già Si massimo Un mese Un mese Un mese e mezzo E ci arriviamo Ah beh Se continuiamo Come adesso Sicuramente Sì Perché Bene o male Comunque Veramente In due settimane Da Da 30 iscritti Si mette 160 In due settimane Neanche Io mi preoccupo Mi preoccupo Mi preoccupo Mi preoccupo Mi preoccupo 360 360 360 360 Raga Allora Questo capitolo qua L'abbiamo finito La live Lo posso terminare Molto easy Molto cheer Ci siamo fatti Un capitolo e mezzo Quindi Direi che Non è neanche male Tommy Cheat Non è stato per niente difficile A parte la parte Della polizia Che è stato Un pochino Diciamo Più brigoso Ma del resto Del resto Non è paragonabile Al mio livello Io raga Ve lo ridico Ve lo ripeto Io Asphalt 8 L'ho finito Il 6 Il 7 E l'8 Cioè No Asphalt l'ho finito Io l'asphalt 6 Asphalt 7 E asphalt 8 Li ho finiti Tutti E ora Finiremo pure Asphalt 9 Che vi devo dire Rar Racing Rar Racing No Rar Racing Non l'ho mai finito A dirti la verità E niente raga Con questo Io vi saluto E' stato Divertente Ci siamo passati Un'oretta Di live E ci vediamo Domani mattina Con tanti Nuovi iscritti Speriamo Speriamo Di riuscire a fare Un'altra live Come oggi Perché veramente Sono stato Molto contento Della live Di oggi Anche Darkman Ha confermato E' stato Una vera E propria Live Family Friendly Che abbiamo Giocato Con tutti Ringrazio Comunque Questi due Che sono ancora In vocale Alle 10 Di sera Con me E andremo A fare qualche Altro gioco Ciao ragazzi Mi raccomando Di descrizione Attiviamo la campanella E spacchiamo I like No Non li spaccate Che se no Dopo non li potete Più mettere Basta che ci Cliccate Sopra Bella